La procura vuole venerci più chiaro sulle cause che hanno portato alla morte di Linda Zennaro, la giovane ventenne di Campalto, deceduta la notte del Redentore a Venezia, in località Alberoni a Rido. La cerimonia funebre era già stata fissata per martedì mattina alle ore 9 nella chiesa dei Santi Martino e Benedetto a Campalto, esporte le epigrafe. Dopo la celebrazione, la cremazione del corpo a Marghera. Il pubblico ministero Anna Andretta, che sta seguendo il caso, dopo l'esecuzione dell'autopsia, però non ha dato di nulla osta. Probabilmente saranno necessari ulteriori accertamenti, così il funerale, che sarà presieduto dal parroco Don Massimo Cadamura, è stato bloccato, rinviato, adatta da destinarsi e con ogni probabilità non si potrà celebrare prima di sabato prossimo. Il parroco racconta come la comunità di Campalto stia vivendo questo momento di dolore. L'evento di Linda Zennaro ci ha colpiti profondamente, noi dei quartieri, ma anche poi della comunità cristiana, sia per le modalità con cui l'evento è avvenuto e sia perché appunto è una grande tragedia, ragazza di 21 anni, la mamma l'ho incontrata l'altro giorno, è veramente scioccata, è provata e per cui, e anche poi l'altra sera la manifestazione, la fiaccolata che hanno fatto, indubbiamente c'erano 500-600 persone, c'era un grande silenzio che segno di questo turbamento molto molto profondo. Si vuole anche capire il punto esatto in cui è avvenuta la tragedia. In quella zona solitamente l'acqua è poco profonda, meno di un metro, rendendo così poco probabile l'ipotesi di un annegamento. Per questo i carabinieri stanno seguendo tutte le piste, nessuna è scartata. intanto l'intero campalto si sta stringendo alla mamma di Ghinda Rossella, al papà Roberto, il fratello Alvise, alla nonna Mara, parenti e cugini. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami il tuo sorriso è la mia pace, si legge nell'epigrafe di Ghinda da una frase di Sant'Agostino. Erano fissati i funali per martedì, poi credo di aver capito che ci sono delle difficoltà e di riprogrammare l'evento. Questo aggiunge sconforto, ha già il dolore che la famiglia prova indubbiamente, quindi speriamo che al più presto si possa perlomeno chiudere questo momento così difficile.